Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di 5 segreti per essere felici in amore. Allora, prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, quali sono 5 segreti per essere felici in amore? Allora, il primo segreto è di imparare a stare bene da soli, perché se tu non stai bene da soli diventerai bisognoso, andrai a mendicare, andrai a mendicare supposte scadute e le prenderai per bocca, tra l'altro. Quindi è la cosa peggiore che si può fare quella di diventare mendicanti d'amore. I mendicanti d'amore moriranno di fame, quindi primo punto, devi imparare, stai da solo. Se tu non ci riesci, devi imparare, come dire, facendo pratica, abituarti a vivere da sola o da solo. Questa è la cosa fondamentale. Poi non permettere a nessuno di cambiarti. Cioè, se uno ti dice, guarda, non mi piace come ti vesti, non mi piace come, cosa fai? Beh, io sono quel che sono, se ti vado bene è così, se non ti vado bene è fuori dai maroni. Cioè, non devi cadere nella crisi di identità, nel far sì che gli altri ti valutino in modo diverso da come tu sei. Questo è fondamentale. Poi un'altra cosa, diciamo, che bisogna imparare a fare è non essere nel passato. Cioè, non devi stare nel passato. Le ferite del passato devi superarle. Sono le nostre memorie, vanno ristrutturate attraverso degli atti di coraggio nel presente. Sono gli atti di coraggio nel presente, atti, potremmo definirli, magici, che vanno a ristrutturare automaticamente le ferite del passato. Quindi, questo è fondamentale. E poi c'è nella relazione con l'altro. Cioè, nella relazione con l'altro devi metterti anche nei panni dell'altro. Sviluppare empatia. Saper ascoltare l'altra persona. Perché se non sei in grado di ascoltare l'altra persona, difficilmente riuscirai ad essere felice in amore. Questo è importante. E il quinto punto è cercare di mantenere la passione. La passione è, come dire, un fiore che va innaffiato. Va innaffiato, mantenere un po' di mistero, non scadere nelle abitudini. Sono tutta una serie di cose che servono a mantenere l'altra passione. Ovviamente, è un lavoro che va fatto da entrambe le persone. Non è possibile che soltanto una persona cerchi di mantenere alta la passione e l'altro no. Questo non è possibile. Però, entrambi, si può lavorare per cercare di mantenerla alta, questa passione. Quindi, questo è importante. Se farai queste cose, vedrai che... Vivrai le storie d'amore per quello che sono, quanto dureranno, ma in modo felice. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Toramaschi. Iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale. Felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti. Ciao a tutti.